Buongiorno, questa è la scatola del prodotto c'è il cavo usb per la ricarica e questo è il prodotto molto piccolo e compatto pieghevole per me è indispensabile, è il terzo che compro nel senso che uno ce l'ho io gli altri li uso o in altre abitazioni o comunque li vado a usare ad esempio uno che ho dato a mia socia lo uso lì quando andiamo per qualsiasi necessità e praticamente cosa fai tu? tu vai a sbloccarlo quindi lui di solito è in posizione lock lo sblocchi, schiacci ti fa vedere il livello della batteria poi schiacci e fa questa scintilla ci puoi accendere le candeline ci puoi accendere i gas ci puoi accendere quello che ti pare pezzi di carta, poi il camino piuttosto che i cubettini quelli non mi ricordo come si chiamano per accendere il camino quindi puoi farci veramente di tutto ed è estremamente facile